Il nostro intervento è stato un intervento rettamente strutturale, con il 80% dell'incontro relativo a interventi strutturali, dei quali si vede l'unica attenzione che abbiamo ancora sono la realizzazione dei 6 pinceri di formaggio, alcuni si vedono che sono questi ad esempio, ce ne sono 6, che sono quelli che hanno la funzione di assolvere il finte sismo, quindi la resistenza sismica. E poi degli interventi metallici, di cui più visibile è quello che si vede proprio in entrata, che ha la funzione di rinforzare le trai di copertura sempre in occasione di eventi sismali. Arrivederci, buon giocato. Grazie mille.